Invece sono altro. Questa è una manifestazione contro il Green Pass. E allora facciamolo sentire! No Green Pass! 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 Se no poi gli amici che ci guardano pure dal Nord Italia che in questo momento ci stanno guardando tutti quanti. Voi che cosa ci dicono? Che noi siciliani dormiamo! Queste sono le manifestazioni. Oggi sono arrivato da Messina, siamo qua e qui non ci sono soltanto voi. Qui ci sono anche amici di Siracusa, si erano venuti qui a trovarci. Eccoli là, fatemi sentire! Ci sono anche gli amici di Messina e siamo tutti quanti insieme perché oggi è un'unica lotta quella che noi stiamo facendo. Senza colore politico riguarda la nostra vita! Ci chiamano in qualsiasi modo. Io mi reputo un libero pensatore indipendente come ognuno di voi, ma ci chiamano negazionisti, no tap e adesso anche fascista. Questo è quello che ci vogliono dire loro. Guardatevi in faccia, chi è qua il fascista? Il fascista per me è morto 50 anni fa, ma invece io oggi mi rendo conto che fascista è chi mette dei recinti per fare mangiare gli stessi cittadini, la stessa popolazione da un lato o dall'altro. Chi non mi fa lavorare? Questo è il fascismo! Certamente noi, che non noi che siamo il popolo in piazza!